Una mappa per individuare i defibrillatori. Parte così il censimento voluto da Confartigianato ed Asla Toscana Sud-Est. Arezzo è infatti la città più cardioprotetta d'Italia e l'associazione di categoria in collaborazione con il servizio di Emergenza Urgenza ha aderito al progetto per sensibilizzare le imprese a retine sull'importanza degli strumenti salvavita e per mappare quelli presenti nelle varie aziende. Da anni l'Emergenza Urgenza porta avanti il progetto Cuore che riguarda l'uso dei defibrillatori e la formazione dei cittadini. È però di fondamentale importanza essere a conoscenza della dislocazione sul territorio dei defibrillatori, gli unici strumenti in grado di assistere un paziente in arresto cardiaco. Da qui la necessità di una diffusione capillare di questi apparecchi nel territorio a retino, ma anche quella di mapparli e tenerli costantemente efficienti. Un'esigenza che adesso è stata raccolta da Confartigianato, iniziando un percorso di informazione e diffusione rivolta alle aziende affiliate in collaborazione con l'Emergenza Sanitaria Retina per portare avanti l'operazione di censimento degli strumenti e sensibilizzare le imprese. La creazione di una mappa di defibrillatori, dichiara il segretario provinciale di Confartigianato Imprese, Arezzo Alessandra Papini, non è solo un passo avanti verso una comunità più sicura, ma è un atto di responsabilità collettiva e sociale alla quale non possiamo esimerci. Confartigianato e le piccole e medie imprese che spesso hanno questo prezioso strumento nelle proprie sedi porteranno sicuramente il loro contributo.